C'è chi lo ritiene la stella polare grazie alla quale orientarsi nell'agire professionale. Il nuovo codice deontologico per gli infermieri italiani ha ottenuto il voto unanime di tutti gli ordini professionali lo scorso mese di aprile al termine di una consultazione con gli iscritti che ha rappresentato una novità nella stesura di questo importante documento. Ma tra la partecipazione anche online e la conoscenza c'è un gap da colmare e sarà questo il compito degli ordini provinciali attraverso incontri di aggiornamento. Qui siamo nella sala rossa del castello di Barletta dove a parlare del nuovo codice deontologico ai propri iscritti è stato l'Opi della Bat. Giornata di confronto ascoltando anche la lettura dei 53 articoli suddivisi in otto capi alla presenza non solo dei rappresentanti del consiglio direttivo ma anche della presidente della federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, della professoressa Angela Basile, del dottor Francesco Falli componente dell'Opi di La Spezia e della dottoressa Grazia Menchise. Il nuovo codice deontologico ha ribadito la presidente Mangiacavalli è migliorabile anche se rappresenta un traguardo importante, ancor di più se si considera che l'ultimo codice era vecchio di dieci anni, un tempo lungo nel quale la professione infermieristica e i suoi contesti sono completamente cambiati. È un codice che sta entrando nella quotidianità dei colleghi infermieri e quindi io non parlerei di rispetto del codice deontologico perché come dico io il codice deontologico deve essere un vestito che ogni infermiera indossa deve sentirsi a proprio agio perché è quella modalità comportamentale e relazionale che lo fa entrare in relazione con il nostro assistito, con il nostro cittadino e che fa capire al cittadino chi è il professionista che ha di fronte. I infermieri hanno un dovere deontologico di conoscere quali sono appunto gli articoli che vanno a regolare il proprio agire professionale per cui noi questa giornata appunto la dedichiamo a loro, la dedichiamo ai cittadini, ai politici e quindi appunto per dare loro la possibilità di approfondire alcuni argomenti importanti del codice per cui noi affrontiamo nel codice diversi argomenti che insomma sono pregnanti della vita professionale quindi dalla libera professione alla capacità di comunicare anche con i pazienti, il rapporto con i pazienti e con le professioni, con gli altri professionisti e con i colleghi infermieri. Quindi un insieme di regole deontologiche che devono essere conosciute e rispettate anche al di fuori dell'attività professionale e dell'attività lavorativa.